Una vera e propria rissa, che di natalizio e religioso ha ben poco, è quella scoppiata a Betlemme tra greci ortodossi e religiosi armeni, all'interno della Basilica della Natività. Armati di scopa e se le sono date di santa ragione, usando come armi i manici delle ramasse. Sono anche volati pugni. C'è voluta l'irruzione della polizia palestinese armata di manganelli per riportare la calma tra i preti e i monaci. Scampati all'arresto solo perché religiosi. Motivo dello scontro una lite sulle rispettive competenze riguardo alla pulizia della chiesa per i festeggiamenti natalizi. Scontri simili si sono verificati altre volte, sempre in questo periodo.